Khalil Gibran, il profeta. Traduzione di Giovanna Francesca Brambilla. Il profeta. Al Mustafa, l'eletto e l'amato, che era un'alba nel soggiorno, aveva atteso dodici anni nella città di Orfalese, la nave che doveva ritornare a riportarlo all'isola nativa. E nel dodicesimo anno, il giorno settimo di Yelul, mese del raccolto, salì sulla collina oltre le mura della città, e guardò verso il mare, e vide la sua nave venire nella nebbia. Allora le porte del cuore gli si spalancarono, e la sua gioia volò lontano sul mare, ed egli chiuse gli occhi e pregò nei silenzi della sua anima. Ma scendendo dalla collina, una grande tristezza si posò su di lui, ed egli pensò in cuor suo, come potrò andarmene, in pace e senza dolore. No, non senza una ferita nello spirito lascerò questa città. Lunghi furono i giorni di pena passati tra le sue mura, e lunghe le solitarie notti. E chi può allontanarsi dalla propria sofferenza e solitudine senza rammarico? Troppi frammenti dello spirito ho seminato in queste vie, e troppi sono i bambini della mia nostalgia, che camminano nudi tra queste colline, e io non posso allontanarmi da loro senza peso e dolore. Non è un indumento quello che tolgo oggi, ma pelle che lacero con le mie stesse mani. Non è nemmeno un pensiero quello che lascio dietro di me, ma un cuore reso dolce dalla fame e dalla sete. Tuttavia non posso più rimanere. Il mare che chiama a sé tutte le cose mi chiama, e io devo imbarcarmi. Poiché restare, nonostante le ore brucino nella notte, significa congelarsi e cristallizzarsi ed essere vincolati a un modello. Io con me porterei volentieri tutto ciò che è qui. Ma com'è possibile? Una voce non può portare con sé la lingua e le labbra che le diedero le ali. Da sola deve cercare l'etere, e sola e senza il suo nido volerà l'aquila nel sole. Allora, quando arrivò ai piedi della collina, si volse ancora verso il mare, e vide la sua nave avvicinarsi al porto, e sulla prua i marinai, gli uomini della sua stessa terra. E la sua anima gridò loro, figli della mia antica madre, voi cavalieri delle onde, quante volte avete veleggiato nei miei sogni, e ora venite durante il mio risveglio, che è il mio sogno più profondo. Sono pronto a partire, e il mio desiderio con vele spiegate aspetta il vento. Solo un altro respiro respirerò in quest'aria calma, solo un altro sguardo d'amore volgerò all'indietro, e poi sarò tra voi, un navigante tra naviganti. E tu, vasto mare, madre insonne, unica pace, libertà per fiumi e rivi, solo un'altra svolta farà questa corrente, solo un altro mormorio in questa radura, e poi io verrò da te, una goccia sconfinata in uno sconfinato oceano. E mentre camminava vide in lontananza uomini e donne abbandonare i campi e le vigne, e affrettarsi verso le porte della città, e udì le loro voci gridare il suo nome, e dirsi null'altro, gridando di campo in campo, dell'arrivo delle sue nave. Ed egli si disse, il giorno del distacco sarà forse il giorno di raccolta, e si dirà forse che la mia vigilia fu in verità la mia alba. E cosa darò a colui che ha lasciato il suo aratro a metà solco, o a chi ha fermato la ruota del suo torchio? Diventerà il mio cuore un albero carico di frutta, che io posso raccogliere da loro? E sgorgeranno i miei desideri come una fontana, in modo che io possa riempire le loro coppe? Sono forse un'arpa che possa essere toccata dalla mano del potente, o un flauto che possa essere attraversato dal suo fiato? Un ricercatore di silenzi io sono? E quale tesoro ho trovato nei silenzi che io possa dispensare con fiducia? Se questo è il mio giorno del raccolto, in quali campi ho sparso il seme, e in quali dimenticate stagioni? Se questo è davvero il momento in cui eleverò la mia lanterna, non è la fiamma che dentro vi arderà. Io innalzerò la mia lanterna, vuota e nera, e il guardiano della notte la riempirà di olio e anche lui l'accenderà. Queste cose disse a parole, ma molto di ciò che era nel suo cuore rimase non detto, poiché egli stesso non sapeva esprimere il suo segreto più profondo. E quando entrò nella città, tutto il popolo gli andò incontro, acclamandolo all'unanimità, e gli anziani della città si fecero avanti e dissero, non andartene già. Tu sei stato un meriggio del nostro crepuscolo e la tua giovinezza ci ha dato sogni da sognare. Tu non sei uno straniero fra noi e neppure un ospite, ma il nostro adoratissimo figlio. Non far sì che i nostri occhi soffrano sin d'ora perché affamati del tuo volto. E i sacerdoti e le sacerdotesse gli dissero, non permettere che le onde del mare ci separino adesso e che gli anni trascorsi in mezzo a noi diventino un ricordo. Tu hai camminato fra noi in spirito e la tua ombra è stata una luce sui nostri volti. Molto t'abbiamo amato, ma mutuo era il nostro amore e con veli fu velato, eppure ora esso a te grida e a te vorrebbe rivelarsi. L'amore mai conosce la propria profondità se non nell'ora della separazione. E anche altri vennero e lo supplicarono, ma egli non rispose loro, chi no soltanto il capo e chi gli stava a fianco vide lacrime cadergli sul petto. E con il popolo egli si diresse verso la grande piazza davanti al tempio. E dal santuario uscì una donna che si chiamava Almitra, era una veggente. Egli la guardò con estrema tenerezza perché lei era stata la prima persona a cercarlo e a credere in lui quando egli non si trovava che da un sol giorno nella loro città. Ed ella lo salutò dicendo, profeta di Dio, in cerca del massimo, a lungo hai scrutato l'orizzonte spiando l'arrivo della tua nave. E ora la tua nave è arrivata e tu devi proprio andare. Immerso nella nostalgia per la terra delle tue memorie e dimora dei tuoi più grandi desideri. Il nostro amore non ti fermerebbe, né le nostre esigenze ti tratterrebbero. Però questo ti chiediamo prima che tu parta, che tu ci parli e ci trasmetta la tua verità. Noi la doneremo ai nostri figli e questi ai loro figli ed essa non perirà. Nella tua solitudine hai osservato i nostri giorni e nella veglia hai ascoltato il pianto e il riso del nostro sonno. Ora perciò svelaci a noi stessi e dici tutto quello che ti è stato rivelato di ciò che sta tra la vita e la morte. Ed egli rispose, popolo di Orfalese, di che cosa potrò mai parlare se non di quello che anche adesso si agita dentro le vostre anime. Disse allora Almitra, parlaci dell'amore. Ed egli sollevò la testa e alzò gli occhi sulla folla e su di essi scese il silenzio. E a gran voce gli disse, quando l'amore vi chiama, seguitelo. Benché le sue vie siano faticose e ripide e quando le sue ali vi avvolgono, abbandonatevi adesso. Quantunque la spada nascosta tra le sue piume vi possa ferire e quando esso vi parla, credetegli, sebbene la sua voce possa frantumare i vostri sogni come il vento del nord devasta il giardino. Poiché proprio come l'amore vi incorona, così vi crocifiggerà. Come è per la vostra crescita, così favorisce la vostra potatura. Proprio come sale fino alla vostra altezza per accarezzare i vostri più teneri rami che tremano nel sole, così esso scenderà alle vostre radici per scuoterle dove esse sono più fortemente attaccate alla terra. Come covoni di grano vi raccoglie a sé, vi trebbia per mettervi a nudo, vi setaccia per liberarvi dalle vostre pellicole, vi macina sino a rendervi candidi, vi impasta sino a quando non sarete flessibili e poi vi cede al suo sacro fuoco affinché voi possiate diventare pane sacro per la santa mensa di Dio. Tutte queste cose farà a voi l'amore affinché possiate conoscere i segreti del vostro cuore e in quella conoscenza diventare così un frammento del cuore della vita. Ma se per paura cercherete dell'amore soltanto la pace e il piacere, meglio sarebbe allora per voi coprire la vostra nudità ed uscire dall'aia dell'amore. Entrare nel mondo senza stagioni dove voi riderete però non tutto il vostro riso e piangerete ma non tutte le vostre lacrime. L'amore non dà nient'altro che se stesso e non prende nulla se non da se stesso. L'amore non possiede, ne vorrebbe essere posseduto perché l'amore basta all'amore. Quando amate non dovreste dire Dio è nel mio cuore ma piuttosto sono nel cuore di Dio e non pensiate di poter dirigere il corso dell'amore perché l'amore se vi trova degni a dirigere il vostro corso. L'amore non ha nessun altro desiderio che quello di adempiersi ma se nel vostro amore non potete fare a meno di desiderare fate che questi siano i vostri desideri. Sciogliersi ed essere come un ruscello che canta la sua melodia alla notte, conoscere la pena di troppa tenerezza, essere feriti dalla comprensione stessa dell'amore e dessanguinare volentieri e con gioia. Destarsi all'alba con un cuore alato e rendere grazie per un altro giorno d'amore. Riposare nell'ora del meriggio e meditare l'estasi dell'amore. Rincasare la sera con gratitudine e addormentarsi con una preghiera in cuore per l'amato e un canto di lode sulle labbra. Allora Almitra di nuovo chiese che ne pensi del matrimonio maestro? Ed egli rispose siete nati insieme e insieme sarete per sempre. Voi sarete insieme quando le bianche ali della morte disperderanno i vostri giorni. Sì sarete insieme persino nella silenziosa memoria di Dio ma lasciate che vi siano spazi nel vostro stare insieme e lasciate che i venti del cielo danzino tra voi. Amatevi l'un l'altro ma dell'amore non fate né un vincolo. Lasciate piuttosto che vi sia un mare in movimento tra le sponde delle vostre anime. Riempitevi reciprocamente la coppa ma non bevete da una singola coppa. Datevi l'un l'altro un po' del vostro pane ma non mangiate dalla stessa pagnotta. Cantate e danzate insieme e siate gioiosi ma fate che ognuno di voi possa star solo come sole sono le corde del liuto sebbene vibrino della stessa musica. Datevi il cuore ma non per trattenervelo l'un l'altro poiché solo la mano della vita può contenere il vostro cuore. E reggetevi insieme senza però stare troppo vicini poiché le colonde del tempio sono collocate a una certa distanza e la quercia e il cipresso non crescono l'uno all'ombra dell'altro. E una donna che stringeva un bimbo al seno chiese parlaci dei figli ed egli disse i vostri figli non sono i vostri figli. Essi sono i figli e le figlie della smania della vita per se stessa. Vengono attraverso di voi ma non da voi e benché stiano con voi tuttavia non vi appartengono. Voi potete dar loro il vostro amore ma non i vostri pensieri poiché essi hanno i propri pensieri. Potete dare alloggio ai loro corpi ma non alle loro anime poiché le loro anime dimorano nella casa del futuro che voi non potete visitare neppure in sogno. Voi potete sforzarvi di essere come loro ma non cercate di renderli simili a voi poiché la vita non va all'indietro e non si trattiene sullo ieri. Voi siete gli archi dai quali i vostri figli vengono proiettati in avanti come frecce viventi. L'arciere vede il bersaglio sul sentiero dell'infinito ed egli vi tende con la sua potenza in modo che le sue frecce vadano rapide e lontane. Lasciatevi tendere con gioia dalla mano dell'arciere poiché come gli ama le frecce che volano così ama pure l'arco che è stabile. Disse allora un ricco parlaci del dare ed egli rispose voi non date che cosa di poco conto quando date qualcosa dei vostri beni è quando date qualcosa di voi stessi che date veramente poiché cosa sono i vostri beni se non cose che serbate e custodite per paura di averne bisogno domani. E domani che cosa porterà il domani al cane troppo prudente che nasconde gli ossi nella sabbia che non lascia tracce mentre segue i pellegrini diretti alla città santa? E che cos'è la paura del bisogno se non il bisogno stesso? E la paura della sete quando il vostro pozzo è pieno? Non è forse insaziabile sete? Ci sono quelli che danno poco del molto che hanno e lo danno per avere un riconoscimento e questo loro desiderio nascosto rende insalubri i loro doni. E ci sono quelli che hanno poco ed hanno tutto questi sono coloro che credono nella vita e nella sua generosità e il loro scrigno non è mai vuoto. Ci sono quelli che danno con gioia e quella gioia è la loro ricompensa e ci sono quelli che danno con pena e quella pena è il loro battesimo e vi sono quelli che danno e nel dare non conoscono pena né cercano gioia né danno con consapevolezza di virtù. Essi sono come il mirto che diffonde la sua fragranza nello spazio laggiù nella valle. È attraverso le mani siffatte persone che Dio parla ed è da dietro i loro occhi che egli sorride sulla terra. È bene dare quando vi viene chiesto ma è ancor meglio capire e dare spontaneamente quando nulla vi viene chiesto e per chi è generoso la ricerca di qualcuno che riceverà è gioia più grande del dare e c'è forse qualcosa che vorreste trattenere? Tutto quel che avete verrà dato un giorno perciò date ora affinché la stagione dei doni possa essere vostra e non dei vostri eredi. Voi dite spesso io darei ma solo ai meritevoli. Gli alberi del vostro frutteto non parlano così e neppure le greggi del vostro pascolo. Essi danno per poter vivere poiché trattenersi significa perire. Sicuramente colui che è degno di ricevere i giorni e le notti è degno di ricevere qualsiasi altra cosa da voi e colui che ha meritato di bere dall'oceano della vita merita di riempire la sua coppa nel vostro piccolo ruscello. E quale merito più grande vi sarà di quello che sta nel coraggio e nella fiducia anzi nella carità di ricevere? E chi siete voi perché gli uomini debbano squarciarsi il petto e togliere il velo del proprio orgoglio affinché voi possiate vedere il loro valore messo a nudo e il loro orgoglio umiliato? Prima badate che voi stessi meritiate di essere dei donatori e strumenti del dare poiché in verità è la vita che dà la vita mentre voi che vi credete donatori non siete che testimoni. E voi che ricevete e siete tutti dei riceventi non addossatevi il peso della gratitudine per non porre un gioco su di voi e su chi dona. Piuttosto i doni siano leali sulle quali voi e il donatore vi eleverete insieme. Poiché essere troppo memori di un debito significa dubitare della sua generosità che ha per madre la spontanea e generosa terra e Dio per padre. Chiese allora un vecchio, Oste, parlaci del bere e del mangiare. ed egli disse vorrei che voi poteste vivere del profumo della terra e che come una pianta poteste essere sostentati dalla luce ma poiché dovete uccidere per mangiare e derubare il piccolo del suo latte materno per estinguere la vostra sete fate allora che il vostro sia un atto di adorazione e fate che la vostra mensa sia un altare sulla quale il puro e l'innocente della pianura e della foresta venga sacrificato per ciò che vi è di più puro e ancora più innocente nell'uomo. Quando uccidete un animale ditegli in cuor vostro con lo stesso potere che ti uccide io pure vengo ucciso e io pure verrò consumato poiché la legge che ti ha consegnato nelle mie mani mi consegnerà a mia volta in mani più potenti. Il tuo sangue e il mio sangue non sono che la linfa che nutre l'albero del cielo e quando addentate una mela ditele in cuor vostro i tuoi semi vivranno nel mio corpo i boccioli del tuo domani fioriranno nel mio cuore la tua fragranza sarà il mio respiro e insieme ne godremo in tutte le stagioni e quando in autunno raccogliete l'uva delle vostre vigne per il torchio dite in cuor vostro io pure sono una vigna e il mio frutto verrà raccolto per il torchio e come vino nuovo verrò serbato in recipienti eterni e quando in inverno spillate il vino fate che nel vostro cuore vi sia una canzone per ogni calice e fate che nella canzone vi sia un ricordo dei giorni d'autunno della vigna e del torchio. Chiese allora un aratore parlaci del lavoro ed egli rispose dicendo voi lavorate per poter andare di pari passo con la terra e la sua anima poiché oziare significa diventare estranei alle stagioni e uscire dalla processione della vita che in fiera sottomissione avanza maestosamente verso l'infinito. Quando voi lavorate siete un flauto che nel suo cuore volge in musica il mormorio delle ore. Chi di voi vorrebbe essere una canna muta e silenziosa quando tutte le altre cantano insieme all'unisono? Vi è sempre stato detto che il lavoro è una maledizione e la fatica una sventura ma io vi dico che quando lavorate realizzate una parte del sogno più remoto della terra a voi assegnata quando quel sogno nacque ed è nel mantenervi con fatica che voi in verità amate la vita e amare la vita attraverso la fatica significa essere molto prossimi al suo segreto più profondo ma se voi nella vostra pena chiamate la nascita una calamità e il sostentamento del corpo una maledizione scritta sulla vostra fronte allora io rispondo che solo il sudore della vostra fronte cancellerà ciò che è scritto. Vi è stato pure detto che la vita è oscurità e nel vostro tedio ripetete a eco a ciò che è stato detto dallo svogliato e io dico che la vita è davvero oscurità se non c'è slancio e ogni slancio è cieco se non c'è conoscenza e ogni conoscenza è vana se non c'è attività e ogni attività è vuota se non c'è amore e quando voi lavorate con amore instaurate un legame con voi stessi con gli altri e con dio e che cosa significa lavorare con amore significa tessere un abito con i fili tratti dal vostro cuore come se dovesse indossarlo il vostro amato significa costruire una casa con dedizione come se dovesse abitarla il vostro amato significa impregnare tutte le cose che fate con un respiro vestito di gioia come se dovesse consumarne il frutto il vostro amato significa impregnare tutte le cose che fate del soffio del vostro spirito e sapere che tutti i morti benedetti vi stanno vicini e vigilano spesso vi ho sentito dire come se parlaste nel sonno chi lavora il marmo e scopre la forma della sua stessa anima nel sasso è più nobile di chi ara la terra e chi cattura l'arcobaleno per deporlo sulla tela a riproduzione d'uomo è più di chi fabbrica i sandali per i nostri piedi ma io dico è nella veglia del mezzogiorno e non nel sonno che vi renderete conto che il vento parla dolcemente e in ugual modo tanto alle querce giganti quanto al più piccolo di tutti i fili d'erba e che grande è solo colui che trasforma la voce del vento in una canzone resa più dolce del proprio sentimento il lavoro è amore reso visibile e se non riuscite a lavorare con amore ma solo con avversione meglio è che lasciate il vostro lavoro e per chi vi sediate alla porta del tempio per ricevere elemosine da chi lavora con gioia poiché se cuocete il pane con indifferenza cuocerete un pane amaro che nutre l'uomo solo a metà e se pigiate l'uva di malavoglia il vostro malanimo distillerà veleno nel vino e se non amate il canto sebbene cantiate come angeli smorzerete alle orecchie dell'uomo le voci del giorno e le voci della notte allora una donna disse parlaci della gioia e del dispiacere e degli rispose la vostra gioia è il vostro dispiacere smascherato e lo stesso pozzo dal quale si leva il vostro riso è stato sovente colmato dalle vostre lacrime e come potrebbe essere altrimenti quanto più dolore incide in profondità nel vostro essere tanta più gioia potrete contenere la coppa che contiene il vostro vino non è forse la stessa coppa che è stata scottata nel forno del vasaio e il liuto che calma il vostro spirito non è forse il legno stesso scavato dai coltelli quando siete felici guardate nelle profondità del vostro cuore e scoprirete che ciò che ora vi sta dando gioia è soltanto ciò che prima vi ha dato dispiacere quando siete addolorati guardate nuovamente nel vostro cuore e vedrete che in verità voi state piangendo per ciò che prima era la vostra delizia alcuni di voi dicono la gioia è superiore al dolore e altri dicono no il dolore è superiore ma io vi dico che essi sono inseparabili giungono insieme e quando uno siede con voi alla vostra mensa ricordatevi che l'altro giace addormentato sul vostro letto in verità siete sospesi tra dolore e gioia come bilance solo quando siete vuoti siete immobili ed equilibrati quando il tesoriere vi solleva per pesare l'oro e l'argento la vostra gioia o il vostro dolore devono necessariamente alzarsi o cadere allora un muratore si fece avanti e chiese parlaci delle case ed egli rispose dicendo immaginate di costruire una dimora in una zona selvaggia prima di costruire una casa entro le mura di una città poiché proprio come voi rientrate al tramonto così fa il vagabondo sempre solo e lontano che è in voi la vostra casa è il vostro corpo più grande esso cresce al sole e dorme nella tranquillità della notte e non è privo di sogni non sogna forse la vostra casa e sognando non abbandona forse la città per i boschetti e le cime dei colli vorrei poter raccogliere nella mia mano le vostre case per sparpagliarle come un seminatore su foreste e prati vorrei che le valli fossero le vostre strade e i vostri vicoli dei verdi sentieri affinché possiate cercarvi l'un l'altro attraverso le vigne e arrivare col profumo di terra nei vostri indumenti ma ciò non può ancora avverarsi per paura i vostri antenati troppo vicini vi hanno radunati insieme e quella paura durerà ancora un po di tempo e ancora per un po di tempo le mura della città separeranno i vostri focolari dai campi e ditemi gente di orfalese che cosa avete mai in queste case e che cos'è che custodite con porte sprangate avete la pace il quieto impulso che rivela la vostra forza avete dei ricordi i tremanti e fiocchi archi tesi alle sommità della mente avete la bellezza che a partire dagli oggetti in legno e pietra conduce il cuore alla montagna sacra ditemi avete qualcosa di tutto ciò nelle vostre case o avete soltanto la comodità e la brama di comodità quella clandestina che entra in casa da estranea per poi diventare ospite e infine padrona sì essa diventa una domatrice e con rampino e frusta fa dei vostri più grandi desideri delle marionette sebbene le sue mani siano di seta il suo cuore è di ferro vi culla finché va addormentate solo per stare accanto al vostro letto abbeffarsi della dignità degli uomini si burla dei vostri solidi sensi e li depone tra la lanugine del cardo come fossero fragili vasi in verità la brama di comodità uccide la passione dell'anima e va poi ghignando al suo funerale ma voi figli dello spazio irrequieti nel riposo voi non verrete né intrappolati né domati la vostra casa non sarà l'ancora ma l'albero della nave non sarà una lucente membrana che nasconde una piaga ma una palpebra che protegge l'occhio voi non piegherete le vostre ali per varcare la soglia né chinerete il capo per non urtare contro il soffitto né tratterrete il respiro per paura che i muri si fendano e crollino voi non abiterete in tombe fatte dai morti per i vivi e nonostante magnificenza e splendore la vostra casa non tratterrà il vostro segreto né proteggerà il vostro desiderio poiché ciò che è in voi sconfinato dimora nel palazzo del cielo la cui porta è la bruma mattutina e le cui finestre sono le poesie e i silenzi della notte e il tessitore disse parlaci dei vestiti ed egli rispose i vostri vestiti celano gran parte della vostra bellezza ma non nascondono ciò che non è bello e sebbene cerchiate negli indumenti la libertà del riservo in essi potrete scoprire un'armatura e una catena vorrei che poteste andare incontro al sole e al vento più con la pelle che con l'abito poiché il soffio della vita è nella luce del sole e la mano della vita nel vento alcuni di voi dicono è il vento del nord che ha tessuto gli abiti che indossiamo e io dico è stato sì il vento del nord ma ha avuto la vergogna per telaio e il rammollimento delle energie per trama e al lavoro compiuto se ne rideva in mezzo alla foresta non dimenticate che il pudore sta per scudo contro lo sguardo dell'impuro e quando l'impuro non sarà più che cosa mai sarà stato il pudore se non un impedimento e una contaminazione della mente e non dimenticate che la terra gode nel sentire su di essa i vostri piedi nudi e che il vento ama giocare con i vostri capelli e un commerciante chiese parlaci della compravendita ed egli rispose a voi la terra consegna il suo frutto e non ne verreste mai a meno se solo sapeste come riempirve nelle mani e scambiandovi i doni della terra che voi troverete l'abbondanza e sarete soddisfatti ma se lo scambio non avverrà con amore e spontanea giustizia esso condurrà alcuni all'ingordigia e altri alla fame quando voi lavoratori del mare e dei campi e delle vigne incontrate sulla piazza del mercato tessitori e vasai e raccoglitori di spezie pregate allora lo spirito maestro della terra di venire in mezzo a voi e di santificare le bilance e la stima dei valori e non tollerate che mani sterili prendano parte alle vostre transazioni perché in cambio della fatica vi daranno solo parole a si fatte persone voi dovreste dire venite con noi nei campi oppure andate con i vostri fratelli a gettare le reti in mare poiché la terra e il mare saranno generosi con voi come lo sono con noi e se vengono cantanti e danzatori e suonatori di flauto comperate pure i loro doni già che anche essi raccolgono risultati ed elogi e ciò che essi recano sebbene fatto di sogni è veste e cibo per la vostra anima e prima di lasciare la piazza del mercato badate che nessuno se ne sia andato a mani vuote poiché lo spirito maestro della terra non potrà dormire pacificamente contro vento finché i bisogni del più piccolo fra voi non siano soddisfatti allora uno dei giudici della città si fece avanti e disse parlaci della colpa e della pena ed egli rispose è quando il vostro spirito vaga contro vento che soli e senza protezione fate dei torti agli altri e quindi a voi stessi e per quell'errore commesso dovrete bussare e aspettare a lungo trascurati alla porta dei beati il vostro io divino è come l'oceano resta sempre incontaminato e come lettere solleva soltanto ciò che è alato il vostro io divino è puro come il sole non conosce le vie della talpa né cerca le tane del serpente ma nel vostro essere non abita solo l'io divino molto in voi è ancora uomo e molto in voi non è ancora uomo ma solo un pigmeo in forme che cammina addormentato nella nebbia in cerca del suo stesso risveglio ma è dell'uomo in voi di cui ora vorrei parlare già che è lui e non il vostro io divino o il pigmeo nella nebbia che conosce la colpa e la punizione della colpa spesso vi ho sentito parlare di qualcuno che commette un errore come se non fosse uno di voi ma una persona estranea a voi e un intruso nel vostro mondo ma io dico che proprio come il santo e il giusto non possono elevarsi oltre ciò che vi è di più elevato in ognuno di voi così il malvagio e il debole non possono cadere al di sotto di ciò che vi è pure di più infimo in ciascuno di voi e come una singola foglia non ingiallisce se non con la silenziosa consapevolezza di tutta la pianta così il malfattore non può compiere il male senza la volontà nascosta di voi tutti voi camminate insieme come in processione verso il vostro io divino siete la via e i viandanti e quando qualcuno di voi cade cade a favore di chi sta dietro di lui un ammonimento della presenza della pietra che è all'origine dell'inciampo sì e cade per chi gli sta davanti che sebbene abbia piedi più veloci e sicuri non ha tuttavia rimosso quella pietra e vi dirò di più nonostante le mie parole vi peseranno sul cuore la persona assassinata non è priva di responsabilità nel proprio assassinio e il derubato non è esente da biasimo per essere stato derubato il giusto non è innocente delle azioni del malvagio e chi ha le mani pulite non è puro delle azioni del criminale sì il colpevole è spesso la vittima dell'offeso e ancora più spesso il condannato è colui che porta il fardello per chi non conosce condanna e non viene biasimato voi non potete separare il giusto dall'ingiusto e il buono dal cattivo perché insieme si ergono davanti al sole proprio come il filo nero e il bianco vengono tessuti insieme e quando il filo nero si spezzerà il tessitore controllerà l'intera tela ed esaminerà anche il telaio se qualcuno di voi volesse portare a giudizio una moglie infedele pesi sulla bilancia anche il cuore del marito e con misure ne misuri l'anima e chi volesse frustare l'offensore scruti pure nello spirito dell'offeso e se qualcuno fra voi in nome della giustizia volesse punire e pretendesse lascia contro l'albero cattivo ne osservi le sue radici in verità egli troverà radici buone e cattive feconde e sterili tutte intrecciate insieme nel cuore silenzioso della terra e voi giudici che vorreste essere giusti che giudizio pronunciate su colui che benché onesto nel corpo è tuttavia ladro in spirito che pena infliggete a chi uccide il corpo ma che in spirito viene anche egli ucciso come perseguite colui che in causa inganna e opprime ma che viene egli pure amareggiato e oltraggiato e come punirete quelli il cui rimorso è già più grande dei loro misfatti e il rimorso non è forse la giustizia amministrata da quella stessa legge che voi servireste di buon grado voi tuttavia non potete imporre il rimorso all'innocente né levarlo dal cuore del colpevole esso griderà spontaneamente nella notte di modo che gli uomini possano svegliarsi e scrutare in se stessi attentamente e voi che volete capire la giustizia come potrete se non esaminate ogni fatto in piena luce solo allora saprete che l'eretto e il caduto non sono che un unico uomo nel crepuscolo che sta tra la notte del suo io pigmeo e il giorno del suo io divino e che la pietra angolare del tempio non è più alta dell'ultima pietra delle sue fondamenta allora un avvocato chiese cosa ne pensi delle nostre leggi maestro ed egli rispose voi vi dilettate a formulare le leggi ma vi dilettate ancora di più a violarle come bambini che giocano in riva all'oceano e che con costanza costruiscono torri di sabbia per poi distruggerle ridendo ma mentre voi costruite queste torri il mare porta altra sabbia sulla spiaggia e quando le distruggete il mare ride con voi il mare in verità ride sempre con l'innocente ma che dire di quelli per i quali le leggi fatte dall'uomo non sono torri di sabbia e per i quali la vita non è un oceano ma una roccia e la legge uno scalpello con il quale la vorrebbero scolpire a propria somiglianza che pensate dello storpio che odia i danzatori e del bue che ama il suo gioco e crede che l'alce e il cervo della foresta siano creature vagabonde e randage e del vecchio serpente che non potendo più mutare la pelle chiama tutti gli altri nudi e spudorati e di chi viene di buon ora al banchetto nuziale e quando è satollo e stanco se ne va dicendo che ogni banchetto è un disturbo e una violazione e che tutti gli invitati sono dei profanatori di leggi cosa dirò di queste persone se non che esse pure stanno al sole ma che gli volgono la schiena vedono solo le loro ombre e le loro ombre sono le loro leggi che cos'è il sole per loro se non un proiettore d'ombre e che cosa significa riconoscere le leggi se non piegarsi e tracciare le proprie ombre sulla terra ma voi che camminate di fronte al sole quali immagini disegnate sulla terra vi potranno trattenere e voi che viaggiate nel vento quale banderuola dirigerà il vostro corso quale legge fatta dall'uomo vi legherà se spezzerete il vostro gioco e non vi sarà nessuna porta di prigione umana quali leggi temerete se ballerete senza imbattervi in nessuna catena di ferro e che e chi vi porterà a giudizio se strapperete la vostra veste senza lasciarla su nessun sentiero d'uomo gente di orfalese voi potrete soffocare il rullo del tamburo e allentare le corde della lira ma chi potrà comandare alla lodola di non cantare e un oratore chiese parlaci della libertà ed egli rispose alle porte della città e presso il focolare vi ho visto prostrarvi e adorare la vostra libertà proprio come gli schiavi si umiliano davanti a un tiranno e lo lodano nonostante egli li uccida ai messi nel boschetto del tempio all'ombra della cittadella ho visto i più liberi fra voi indossare la libertà come gioco e manette e dentro di me il cuore sanguinava giacché potrete essere liberi soltanto quando persino il desiderio di cercare la libertà diventerà una bardatura e quando cesserete di parlare della libertà come di un traguardo e di un compimento voi sarete liberi in verità non quando i vostri giorni saranno senza affanni e le vostre notti senza un bisogno e un dolore ma piuttosto quando queste cose vi cingeranno la vita e ciò nonostante vi eleverete al di sopra di esse nudi e sciolti e come potrete elevarvi al di sopra dei giorni e delle notti se non spezzerete le catene che voi stessi all'alba della vostra comprensione avete legato attorno al vostro mezzogiorno ciò che voi chiamate libertà è in verità la più forte di queste catene sebbene i suoi anelli scintillino nel sole e abbaglino gli occhi e cosa sono se non frammenti del vostro io quelli che vorreste scartare per poter diventare liberi se è una legge ingiusta che vorreste abolire quella legge è stata scritta con la vostra mano sulla vostra fronte non potete cancellarla bruciando i vostri libri di legge né lavando la fronte dei vostri giudici anche versandovi sopra il mare e se vorreste privare un despota del trono badate prima di distruggere il suo trono eretto dentro di voi poiché come può un tiranno dominare uomini liberi e fieri se non a causa di un dispotismo nella loro stessa libertà e di una vergogna nel loro stesso orgoglio se è una preoccupazione che vorreste gettar via quella preoccupazione è stata scelta da voi piuttosto che impostavi e se è una paura che vorreste disperdere la sede di quella paura è nel vostro cuore e non nella mano della persona temuta in verità tutte le cose si agitano nel vostro essere in un costante semi abbraccio il desiderato e il temuto il ripugnante e il prediletto l'inseguito e ciò che vorreste fuggire queste cose si muovono dentro di voi come luci e ombre in coppie attaccate e quando l'ombra si affievolisce e si dilegua la luce che si attarda ed è lenta a scomparire diventa ombra per un'altra luce e così la vostra libertà quando perde i ceppi diventa essa stessa il ceppo di una più grande libertà e di nuovo la sacerdotessa chiese parlaci della ragione e della passione ed egli rispose la vostra anima è spesso un campo di battaglia dove la ragione il giudizio fanno guerra all'appetito e alla passione se solo potessi fare il pacificatore nell'anima vostra trasformerei la discordia e rivalità dei vostri elementi in accordo e melodia ma com'è possibile ciò se anche voi non siete i pacificatori o meglio gli amanti di tutti i vostri elementi la ragione e la passione sono il timone e le vele della vostra anima navigatrice se le vele o il timone si spezzano voi non potrete che essere sballottati e portati alla deriva oppure restar fermi in mezzo al mare poiché la ragione che domina da sola è una forza limitante e la passione trascurata è una fiamma che pian piano si consuma sino a distruggersi perciò fate che la vostra anima innalzi la ragione fino all'apice della passione affinché essa possa cantare e diriga la passione con la ragione di modo che la passione possa vivere e tramite quotidiana resurrezione rinascere rinnovata come la fenice dalle proprie ceneri vorrei che voi consideraste giudizio e appetito come due graditi ospiti in casa vostra certamente non onorereste un ospite più dell'altro poiché chi è più premuroso verso uno perde l'affetto e la fiducia di entrambi quando voi sui colli sedete alla fresca ombra dei bianchi pioppi condividendo la pace e la serenità di prati e campi lontani fate che il vostro cuore dica allora in silenzio dio riposa nella ragione e quando viene il temporale il vento forte scuote la foresta e il tuono e il fulmine proclamano la maestà del cielo fate che il vostro cuore dica allora con riverente timore dio si muove nella passione e poiché siete un alito nella sfera di dio e una foglia nella sua foresta anche voi dovreste riposarvi nella ragione e muovervi nella passione e una donna domandò parlaci del dolore ed egli disse il dolore è la rottura dell'involucro che racchiude la vostra comprensione come il nocciolo del frutto deve rompersi affinché il suo cuore possa stare al sole così voi dovete conoscere il dolore se voi in cuore sapeste continuamente meravigliarvi dei miracoli quotidiani della vostra vita il dolore non vi sembrerebbe meno ammirevole della gioia e accettereste le stagioni del cuore come avete sempre accettato il passare delle stagioni sui campi e vegliereste con serenità negli inverni del vostro dolore gran parte del vostro dolore viene scelto da voi stessi è la mara pozione che con la quale il medico dentro di voi guarisce il vostro io malato perciò abbiate fede in lui e bevete il suo rimedio in silenzio e tranquillità poiché la sua mano sebbene dura e pesante è guidata dalla tenera mano dell'invisibile e la coppa che porge malgrado scotti le labbra è stata modellata con la creta che il vasaio ha inumidito e un uomo disse parlaci della conoscenza di noi stessi ed egli rispose i vostri cuori conoscono in silenzio i segreti dei giorni e delle notti ma le vostre orecchie sono assettate del suono di quella conoscenza voi vorreste sapere in parole ciò che avete sempre saputo in pensiero vorreste toccare con dita il nudo corpo dei vostri sogni e sarebbe bene che così fosse la sorgente nascosta della vostra anima dovrebbe per forza scaturire e scorrere mormorando verso il mare e ai vostri occhi si svelerebbe il tesoro delle vostre infinite profondità ma fate che non vi siano bilance appesare il vostro tesoro sconosciuto e non cercate di sondare con l'asta e lo scandaglio le profondità della vostra conoscenza poiché il vostro io è un mare sconfinato e smisurato non dite ho trovato la verità ma piuttosto ho trovato una verità non dite ho scoperto il sentiero dell'anima dite piuttosto ho incontrato l'anima che cammina sul mio sentiero poiché l'anima cammina per tutti i sentieri l'anima non cammina su di una linea né cresce come una canna l'anima si schiude come un fiore di lotto dagli innumerevoli petali disse allora un insegnante parlaci dell'insegnamento ed egli rispose nessuno può rivelarvi alcunché se non ciò che già giace semi addormentato nell'albeggiare della vostra conoscenza l'insegnante che cammina all'ombra del tempio tra i suoi seguaci non dà la sua saggezza ma piuttosto la sua fede e il suo amore se gli è davvero saggio non vi offre di entrare nella casa della sua saggezza ma vi conduce piuttosto alla soglia della vostra stessa mente l'astronomo può parlarvi della sua comprensione dello spazio ma non può donarvi la sua comprensione il musicista può cantarvi il ritmo che è nell'universo ma non può prestarvi l'orecchio che trattiene il ritmo nella voce che lo eccheggia e chi è esperto nella scienza dei numeri potrà parlarvi dei campi del peso e della misura ma non vi ci potrà condurre già che la capacità di visione di un uomo non presta le sue ali a un altro uomo e come ognuno di voi è unico al cospetto di dio così ognuno di voi deve essere solo nella sua conoscenza di dio e nella sua comprensione della terra e un giovane disse parlaci dell'amicizia ed egli rispose l'amico è il vostro bisogno corrisposto è il campo che seminate con amore e mietete rendendo grazie è la vostra mensa e il vostro focolare perché a lui giungete affamati e in cerca di pace quando l'amico vi dice quel che pensa non abbiate timore di dire il no o il sì che sono nella vostra mente e quando è silenzioso il vostro cuore non cessi di ascoltare il suo cuore già che nell'amicizia senza parlare tutti i pensieri e desideri e aspettative nascono e vengono condivisi con gioia non acclamata quando lasciate l'amico non rattristatevi perché ciò che di più amate in lui può sembrarvi più chiaro durante la sua assenza come la montagna allo scalatore appare più nitida dal piano e fate che nell'amicizia non vi sia altro fine se non l'approfondimento dello spirito poiché l'amore che cerca una qualunque cosa che non sia la rivelazione del proprio mistero non è amore ma una rete gettata in avanti e si piglia solo ciò che è senza profitto e che il meglio di voi sia per l'amico vostro se gli deve conoscere il riflusso della vostra marea fate che ne conosca pure il flusso poiché che amico è mai il vostro che lo dobbiate cercare nelle ore da ammazzare cercatelo sempre nelle ore da vivere già che è il suo bisogno a colmare il vostro bisogno ma non il vostro vuoto e nella dolcezza dell'amicizia fate che vi siano risate e piaceri condivisi perché è nella rugiada delle piccole cose che il cuore trova il suo mattino e si ristora e uno studioso disse parlaci del conversare ed egli rispose voi parlate quando cessate di essere in pace coi vostri pensieri e quando non riuscite più a stare nella solitudine del vostro cuore vivete attraverso le labbra e il suono è una distrazione e un passatempo e in gran parte del vostro discorrere il pensiero viene quasi massacrato poiché il pensiero è un uccello dello spazio che in una gabbia di parole può certamente spiegare le ali ma non può volare ci sono quelli tra voi che cercano le persone loquaci per paura di stare soli il silenzio della solitudine rivela ai loro occhi il loro nudo e vorrebbero scappare e vi sono quelli che parlano e senza conoscenza o riflessione rivelano una verità che essi stessi non capiscono e vi sono quelli che hanno in sé la verità ma non la dicono in parole nel seno di tali persone lo spirito dimora in ritmico silenzio quando incontrate l'amico per strada o sulla piazza del mercato lasciate che sia lo spirito in voi a muovervi le labbra e a dirigervi la lingua lasciate che sia la voce all'interno della vostra voce a parlare all'orecchio del suo orecchio poiché la sua anima serberà la verità del vostro cuore come si ricorda il gusto del vino quando se ne è dimenticato il colore e il recipiente non c'è più e un astronomo chiese parlacci del tempo ed egli rispose voi vorreste misurare il tempo che non ha misure e non può essere misurato regolereste la vostra condotta e dirigereste persino il corso del vostro spirito a seconda delle ore e delle stagioni del tempo ne fareste un ruscello sulla cui riva vi siedereste a guardarlo scorrere eppure ciò che in voi è senza tempo è consapevole dell'eternità della vita e sa che l'oggi non è che il ricordo di ieri e che il domani non è che il sogno di oggi e che ciò che in voi canta e contempla dimora tuttora nei confini di quel primo momento che nello spazio disseminò le stelle chi tra di voi non sente che la sua facoltà d'amare è illimitata e tuttavia chi non sente che l'amore vero racchiuso nel centro del suo essere sebbene illimitato non viene messo in moto da un pensiero d'amore verso un altro pensiero d'amore e nemmeno da gesti d'amore per altri gesti d'amore e come l'amore non è forse il tempo indiviso e senza andatura ma se nel vostro pensiero non potete fare a meno di misurare il tempo con le stagioni fate che ogni stagione racchiuda tutte le altre stagioni e che l'oggi abbracci il passato con il ricordo e il futuro con desiderio e uno degli anziani della città disse parlaci del bene e del male ed egli rispose io posso parlare del bene che è in voi ma non del male poiché che cos'è il male se non il bene è torturato dalla sua stessa fame e sete in verità quando il bene è affamato cerca persino in buie spelonche e quando è assetato beve persino da acque morte siete buoni quando siete voi stessi ma anche quando non vi è unità in voi stessi non siete cattivi perché una casa divisa non è un covo di ladri è solo una casa divisa e una nave priva di timone può errare senza meta tra isole pericolose senza tuttavia andare a fondo siete buoni quando vi sforzate di dare qualcosa di voi stessi però non siete cattivi quando cercate il vostro guadagno giacché quando lottate per il tornaconto non siete che una radice che si avvinghi alla terra e la succhia al seno il frutto non può di sicuro dire alla radice sii come me maturo e carnoso e dona sempre la tua abbondanza poiché come il frutto ha necessità di dare la radice ha necessità di ricevere siete buoni quando siete completamente desti nel vostro discorrere però non siete cattivi quando dormendo la vostra lingua si muove esitante e senza scopo persino un discorso incespicante può rafforzare una debole lingua siete buoni quando camminate verso la meta con fermezza e passi audaci però se vi andate zupicando non siete cattivi persino quelli che zoppicano non vanno a ritroso ma voi che siete forti e veloci badate bene di non zoppicare davanti allo zoppo ritenendola una cortesia siete buoni in innumerevoli modi e quando non siete buoni non siete cattivi solo indugiate e siete pigri peccato che i cervi non possano insegnare la velocità alle tartarughe nell'anelito per un io gigante giace la vostra bontà e quell'anelito è in tutti voi ma in alcuni è un torrente che scorre veloce e con impeto verso il mare trascinando con sé i segreti dei colli e i canti delle foreste mentre in altri è solo un placido corso d'acqua che si perde negli angoli e curva e si attarda prima di raggiungere la spiaggia ma non permettete che chi tanto desidera dica colui che poco desidera per qual motivo sei lento e zoppicante perché il vero buono non chieda al nudo dov'è il tuo vestito né al senza tetto cos'è successo alla tua casa? Poi una sacerdotessa chiese parlaci della preghiera ed egli disse voi pregate nel dispiacere e nel bisogno io vorrei che voi riusciste a pregare anche nella pienezza della vostra gioia e nei giorni dell'abbondanza poiché che cos'è la preghiera se non l'espansione di voi stessi nell'ettere vivente? e se è per vostro conforto scaricare l'oscurità nello spazio è pure per vostro diletto emanare la luce nel vostro cuore e se non potete fare a meno di piangere quando la vostra anima vi chiama alla preghiera essa dovrebbe nonostante il pianto spronarvi fino a farvi ridere quando pregate vi elevate e nell'aia incontrate quelli che pregano nel medesimo istante e che tranne che nella preghiera potreste non incontrare perciò fate che la vostra visita a quell'invisibile tempio sia fatta solo per estasi e dolce comunione poiché se entrate nel tempio solamente per chiedere non riceverete e se vi entrate per umiliarvi non verrete elevati o anche se vi entraste per chiedere il bene degli altri non verrete ascoltati è sufficiente è sufficiente che voi entriate nel tempio invisibile non posso insegnarvi come pregare con le parole Dio non ascolta le vostre parole tranne quando è Egli stesso a proferirle attraverso le vostre labbra e non posso insegnarvi la preghiera dei mari delle foreste e delle montagne ma voi che siete nati dalle montagne foreste e mari trovate la loro preghiera nei vostri cuori se voi solo tendeste l'orecchio nella quiete della notte li udreste dire in silenzio Dio nostro che sei il nostro io alato è la tua volontà che in noi vuole è il tuo desiderio che in noi desidera è il tuo slancio che in noi tramuterebbe le nostre notti che sono le tue in giorni che sono pure i tuoi non possiamo chiederti alcunché perché tu conosci i nostri bisogni prima che essi nascano in noi tu sei il nostro bisogno e nel darci di più di te stesso ci dai tutto allora un'eremita che visitava la città una volta l'anno si fece avanti e disse parlaci del piacere ed egli rispose il piacere è un canto di libertà ma non è la libertà è la fioritura dei vostri desideri ma non è il loro frutto è una profondità che invoca un'altezza ma non è né il mare né il cielo è l'ingabbiato che prende il volo ma non è spazio racchiuso in verità il piacere è una canzone di libertà e io vorrei proprio che voi la cantaste con pienezza di cuore senza però perdere il cuore nel canto alcuni dei vostri giovani cercano il piacere come se fosse tutto e vengono giudicati e biasimati io non li giudicherei né li biasimerei li lascerei cercare poiché essi troveranno il piacere e non soltanto il piacere sette sono le sue sorelle e la più insignificante fra esse è più bella del piacere non avete sentito parlare di quell'uomo che scavando nella terra in cerca di radici scoprì un tesoro e alcuni degli anziani ricordano i piaceri con rimorso come colpe commesse nell'ubriachezza ma il rimorso è il rannuvolamento della mente e non il suo castigo dovrebbero ricordare i loro piaceri con gratitudine come farebbero per il raccolto di un'estate però se il ramarico li conforta lasciate che si confortino e vi sono quelli tra voi che non sono né giovani per cercare né vecchi per ricordare e nella loro paura di cercare e ricordare rifuggono da tutti i piaceri per timore di trascurare o di violare lo spirito ma persino nella loro rinuncia è il piacere e così trovano anch'essi un tesoro sebbene cerchino radici con mani tremanti ma ditemi chi può offendere lo spirito può l'usignolo offendere il silenzio della notte o la lucciola le stelle e potrà la vostra fiamma o il vostro fumo opprimere il vento voi pensate che lo spirito sia una pozza d'acqua cheta che si possa agitare con un bastone spesso nel negarvi un piacere non fate che immagazzinare il desiderio nei recessi del vostro essere e chissà che ciò che sembra omesso oggi non aspetti il domani persino il vostro corpo conosce il suo retaggio e il suo legittimo bisogno e non si lascerà ingannare e il vostro corpo è l'arpa della vostra anima spetta a voi trarne dolce musica o suoni confusi e ora in cuore vi chiedete come distingueremo nel piacere ciò che è buono da ciò che non è buono voi andate nei vostri campi e giardini e apprenderete che il piacere dell'ape consiste nel raccogliere il miele dal fiore e che anche il piacere del fiore consiste nel cedere il suo miele all'ape poiché il fiore per l'ape è sorgente di vita e l'ape per il fiore è un messaggero d'amore e per entrambi ape e fiore il dare e ricevere piacere è una necessità e un'estasi popolo di orfalese nei vostri piaceri siate come le api e come i fiori e un poeta disse parlaci della bellezza ed egli rispose dove cercherete la bellezza e come la troverete se essa non è la vostra strada e la vostra guida e come potrete parlare di essa se non è essa stessa la tessitrice del vostro discorso dicono gli amareggiati e gli offesi la bellezza è dolce e gentile cammina fra noi come una giovane madre quasi intimidita dalla propria gloria ma i passionali dicono no la bellezza è una forza che incute paura come la tempesta scuote al di sotto e al di sopra di noi la terra e il cielo dicono gli stanchi gli esausti la bellezza è fatta di delicati sussurri parla dentro al nostro spirito la sua voce cede ai nostri silenzi come una fievole luce che trema per paura dell'ombra ma gli irrequieti dicono l'abbiamo udita gridare tra le montagne e con le sue grida giunsero un suono di zoccoli un vattito d'ali e un ruggito di leoni di notte i guardiani della città dicono la bellezza sorgerà da oriente con l'alba e dicono invece a mezzogiorno i lavoratori e i viandanti l'abbiamo vista sporgersi sulla terra dalle finestre del tramonto in inverno coloro che rimangono bloccati dalla neve dicono essa arriverà saltellando sulle colline con la primavera e nel calore estivo così dicono i miei titori l'abbiamo vista danzare con le foglie d'autunno e con un soffio di neve fra i capelli tutte queste cose avete detto della bellezza però in verità voi non avete parlato di essa ma di bisogni insoddisfatti e la bellezza non è un bisogno ma un'estasi non è una bocca setata né una mano vuota protesa in avanti ma piuttosto un cuore infuocato e un'anima incarnata non è l'immagine che vorreste vedere né il canto che vorreste udire ma piuttosto un'immagine che vedete e un canto che udite anche se chiudete gli occhi e tappate le orecchie non è la linfa né la corteccia rugosa né un'ala attaccata a un artiglio ma un giardino sempre in fiore e una schiera d'angeli sempre in volo popolo di orfalese la bellezza è la vita quando la vita svela il suo santo volto ma voi siete la vita e voi siete il velo la bellezza è l'eternità che si contempla allo specchio ma voi siete l'eternità e voi siete lo specchio e un vecchio sacerdote disse parlaci della religione ed egli rispose ho forse parlato di qualcos'altro oggi religione non è forse ogni atto e ogni riflessione e ciò che non è atto né riflessione ma una continua meraviglia e sorpresa che scaturisce nell'anima persino quando le mani spaccano la pietra o tendono il telaio chi può mai separare la sua fede dalle azioni o il suo credo dalle sue occupazioni chi può mai distribuire le ore davanti a sé e dire questa per Dio e questa per me questa per la mia anima e quest'altra per il mio corpo tutte le vostre ore sono ali che palpitano attraverso lo spazio da tutt'uno a tutt'uno chi indossa la moralità solo come miglior vestito meglio sarebbe se andasse nudo il vento e il sole non produrranno buchi nella sua pelle e chi definisce la propria condotta con l'etica relega il suo uccello canterino in una gabbia il canto più libero non nasce attraverso sbarre e fili metallici e colui per il quale l'adorazione è una finestra da aprire ma anche da chiudere non ha ancora visitato la casa della sua anima le cui finestre rimangono spalancate dall'alba all'alba è la vostra vita quotidiana il vostro tempio e la vostra religione ogni qualvolta vi entrate portate con voi il vostro tutto portate l'aratro e la fucina e il mazzuolo e il liuto le cose che avete fatto per necessità o per diletto poiché nei vostri sogni a occhi aperti non potrete andare al di là dei vostri conseguimenti o al di sotto dei vostri fallimenti e con voi portate tutti gli uomini poiché nell'adorazione non potrete volare più in alto delle loro speranze né avvilirvi oltre la loro disperazione e se volete conoscere Dio non siate dunque solutori di enigmi piuttosto guardatevi intorno e lo vedrete giocare con i vostri bambini e guardate nello spazio lo vedrete camminare dentro la nuvola protendere le braccia nel lampo e scendere con la pioggia lo vedrete sorridere nei fiori poi alzarsi per agitare le mani fra gli alberi allora Almi tradisse vorremmo adesso chiederti di parlarci della morte ed egli rispose voi vorreste conoscere il segreto della morte ma come potrete scoprirlo se non lo cercate nel cuore della vita il gufo che ha occhi limitati alla notte e ciechi di giorno non può svelare il mistero della luce se volete davvero afferrare lo spirito della morte spalancate il vostro cuore sul corpo della vita poiché la vita e la morte sono unite e indivisibili proprio come lo sono il fiume e il mare nel profondo delle vostre speranze e desideri giace la silenziosa conoscenza dell'aldilà e come semi sognanti sotto la neve il vostro cuore sogna la primavera abbiate fede nei vostri sogni già che in essi è nascosto il cancello dell'eternità la vostra paura della morte non è che il tremito del pastore al cospetto del re che sta per imporgli le mani in segno di onore ma sotto il suo tremito non è forse egli gioioso perché porterà poi l'emblema del re e non è tuttavia forse più conscio del suo tremito poiché cosa significa morire se non stare seduti e nudi nel vento e sciogliersi al sole e cosa significa cessare di respirare se non liberare il respiro dai suoi incessanti flussi affinché esso possa lieve e disciolto elevarsi espandersi e cercare Dio solo quando berrete dal fiume del silenzio canterete davvero e quando avrete raggiunto la cima del monte allora comincerete a scalare e quando la terra reclamerà le vostre membra allora danzerete veramente ora era sera e Almitra la veggente disse benedetto sia questo giorno e questo luogo è il tuo spirito che ha parlato ed egli rispose sono io che ho parlato non ero anch'io un ascoltatore poi discese i gradini del tempio e tutti lo seguirono raggiunse la nave e restò in piedi sul ponte e volgendosi di nuovo verso la folla alzò la voce e disse popolo di orfalese il vento mi ordina di partire io sono meno impaziente del vento eppure devo andare noi vagabondi sempre in cerca della via più solitaria non iniziamo un giorno dove ne abbiamo terminato un altro e nessun alba ci trova dove il tramonto ci ha lasciati anche quando la terra dorme noi viaggiamo noi siamo i semi della pianta tenace e nella nostra maturità e pienezza di cuore che veniamo consegnati al vento e sparpagliati brevi furono i miei giorni fra voi e ancora più brevi le parole da me pronunciate ma se la mia voce dovesse affievolirsi nelle vostre orecchie e il mio amore svanire dal vostro ricordo allora io tornerò e parlerò con cuore più ricco e labbra più cedevoli allo spirito sì io ritornerò con il riflusso e benché la morte possa nascondermi e il più grande silenzio avvilupparmi ancora una volta cercherò la vostra comprensione e non cercherò in vano se quanto ho detto è verità quella verità vi si manifesterà con voce più chiara e con parole più affini ai vostri pensieri vado col vento popolo di Orfalese ma non nel vuoto e se quest'oggi non è una realizzazione dei vostri bisogni e dell'amore mio che questa sia allora una promessa per un altro giorno le esigenze dell'uomo cambiano ma non il suo amore né il desiderio che l'amore soddisfi le sue necessità quindi sappiate che dal più grande silenzio io tornerò la bruma che all'alba se ne va via lasciando solo rugiada nei campi si alzerà si raccoglierà in una nuvola e cadrà poi con la pioggia e io non diverso dalla bruma sono stato nel silenzio della notte ho camminato per le vostre strade il mio spirito è penetrato nelle vostre case i vostri battiti erano nel mio cuore il vostro respiro sul mio viso e vi ho conosciuti tutti sì io ho conosciuto la vostra gioia e il vostro dolore e nel vostro sonno i vostri sogni furono i miei e spesso sono stato tra voi un lago in mezzo alle montagne ho specchiato le cime e i pendii a curve che sono in voi e le greggi di passaggio dei vostri pensieri e desideri al mio silenzio giunsero come ruscelli le risa dei vostri bimbi e come fiumi gli ardenti desideri dei vostri giovani e quando essi furono penetrati nel mio profondo i fiumi e i ruscelli non cessarono tuttavia di cantare ma a me giunse anche qualcosa di più dolce del riso e di più grande del desiderio ardente era l'illimitato in voi il vasto uomo nel quale non siete che cellule e legamenti colui nel cui canto il vostro cantare non è che un palpito senza suono è nell'uomo vasto che voi siete vasti è nel guardarlo che vi ho guardati e amati poiché quali distanze può raggiungere l'amore che non siano in quella vasta sfera quali visioni attese e presunzioni possono librarsi oltre quel volo come una gigantesca quercia ricoperta di fiori di melo è il vastuomo in voi la sua forza vi tiene attaccati alla terra la sua fragranza vi solleva nell'aria e nella sua durabilità siete senza morte vi è stato detto che come una catena voi siete deboli quanto la vostra maglia più debole questo è vero solo a metà voi siete pure resistenti quanto la vostra maglia più forte misurarvi in base alla vostra più piccola azione significa calcolare la potenza dell'oceano dalla fragilità della sua schiuma giudicarvi in base ai vostri insuccessi è come gettare biasimo sulle stagioni per la loro incostanza sì voi siete come l'oceano e sebbene navi pesantemente arenate sulle rive attendano la marea tuttavia come l'oceano non potrete affrettare i vostri flussi eppure come le stagioni voi siete e quantunque durante il vostro inverno rinneghiate la vostra primavera tuttavia la primavera che in voi riposa sorride nel suo dormiveglia e non si offende non pensiate che io vi dica queste cose affinché voi possiate dire ci ha bene elogiato e noi non ha visto che il bene io vi rivelo con parole solo ciò che voi stessi già conoscete in pensiero e cos'è la conoscenza delle parole se non un'ombra della conoscenza inespressa i vostri pensieri le mie parole sono onde provenienti da una sigillata memoria che tiene la registrazione dei nostri ieri e degli antichi giorni in cui la terra non sapeva di noi né di se stessa e delle notti in cui la terra fu creata nella confusione saggi sono venuti da voi per darvi la loro saggezza io sono venuto da voi per prenderla e vedete ho scoperto ciò che è più grande della saggezza è uno spirito fiamma in voi che cresce sempre di più mentre voi incuranti della sua espansione gemete sull'inaridimento dei vostri giorni è la vita in cerca della vita in corpi che temono la tomba non ci sono tombe qui queste montagne pianure sono una culla e una pietra da guado ogni volta che passate per il campo in cui avete sepolto i vostri avi guardate bene subito dopo se vedrete voi stessi e i vostri bambini danzare mano nella mano in verità voi spesso fate festa senza saperlo altri sono venuti da voi e per promesse dorate fatte alle vostra fede avete dato loro ricchezza e potere e gloria io vi ho dato meno di una promessa e tuttavia siete stati con me più generosi mi avete dato una più profonda sete di vita sicuramente non vi è dono più grande per un uomo di quello che trasforma tutte le sue mire in labri a riarse e tutta la vita in una sorgente e in ciò sta il mio onore e la mia ricompensa ogni qual volta aggiungo alla sorgente per bere trovo l'acqua vivente stessa assetata ed essa mi beve mentre io la bevo alcuni di voi mi hanno giudicato orgoglioso e troppo timido per ricevere doni io sono troppo orgoglioso per ricevere ricompense ma non per ricevere doni e sebbene io abbia mangiato bacche tra le colline quando voi mi avreste voluto seduto la vostra mensa e dormito nel portico del tempio quando mi avreste volentieri dato asilo eppure non era forse la vostra amorosa premura verso i miei giorni e le mie notti ad addolcirmi il cibo nella bocca e a cingermi di visione il sonno e per questo io vi benedico maggiormente voi date molto e non sapete affatto di dare in verità la cortesia che si contempla allo specchio si trasforma in pietra e una buona azione che si compiace chiamando se stessa con teneri nomi diventa fonte di una maledizione e alcuni di voi mi hanno definito distante ed ebbero di solitudine e avete detto tiene consiglio con gli alberi della foresta ma non con gli uomini siede da solo sulle cime dei colli e guarda dall'alto la nostra città vero è che mi sono arrampicato sulle colline e che ho camminato per remote contrade ma come avrei potuto vedervi se non da una grande altezza o da una grande distanza come si può essere vicini se non si è lontani e altri fra voi senza parlare mi invocarono e dissero straniero straniero amante di altezze irraggiungibili perché resti tra le cime dove le aquile costruiscono i nidi perché cerchi l'irraggiungibile quali tempeste cerchi di intrappolare nella tua rete e di quali fantastici e nebulosi uccelli vai a caccia nel cielo vieni e sii uno di noi scendi appaga la tua fame con il nostro pane ed estingui la tua sete con il nostro vino queste cose dissero nella solitudine delle loro anime ma se la loro solitudine fosse stata più profonda essi avrebbero saputo che io non cercavo che il segreto della vostra gioia e del vostro dolore e che inseguivo solamente il vostro io più grande che in cielo cammina ma il cacciatore era anche l'inseguito perché molte delle mie frecce partirono dal mio arco solo per cercare il mio stesso petto e il volatore era anche rettile perché quando le mie ali erano aperte nel sole la loro ombra sulla terra era una tartaruga e io il credente ero anche il dubitante poiché spesso ho messo il dito nella mia ferita per poter avere un maggior credo in voi e conoscervi meglio ed è con questa fede e questa conoscenza che io vi dico voi non siete racchiusi nei vostri corpi né confinati in case o campi ciò che voi siete sta più in alto del monte e vaga nel vento non è una cosa che striscia il sole per desiderio di calore o che scava bucche nel buio per sicurezza ma una cosa libera uno spirito che avviluppa la terra e si muove nell'etere se queste sono vaghe parole allora non cercate di chiarirle vago e nebuloso è l'inizio di tutte le cose ma non la loro fine e io gradirei che voi mi ricordaste come un inizio la vita è tutto ciò che vive è concepita nella nebbia e non nel cristallo e chissà che un cristallo non sia nebbia in disfacimento nel ricordarmi questo vorrei che ricordaste ciò che in voi sembra essere il più debole e incerto è invece il più forte e risoluto non è il vostro respiro che ha eretto e solidificato la struttura delle vostre ossa e non è un sogno che nessuno di voi ricorda di aver sognato che ha costruito la vostra città e fatto tutto ciò che è in essa se solo voi poteste vedere i flussi di quel respiro cessereste di vedere qualsiasi altra cosa e se voi solo poteste udire il sussurrio del sogno non ascoltereste nessun altro suono ma no ma voi non vedete né udite ed è bene che così sia il velo che vi appanna gli occhi verrà sollevato dalle mani di chi l'ha tessuto e l'argilla che vi ottura le orecchie verrà forata dalle dita che l'hanno impastata e voi vedrete e voi udrete tuttavia non vi rincrescerà di aver conosciuto la cecità né rimpiangerete di esser stati sordi perché quel giorno conoscerete gli scopi nascosti e benedirete l'oscurità così come benedireste la luce dopo aver detto queste cose si guardò intorno e vide il navigatore della sua nave alla ruota del timone che fissava ora le gonfie vele e ora l'orizzonte e disse paziente ultrapaziente è il capitano della mia nave il vento soffia e inquiete sono le vele persino il timone implora la direzione eppure il capitano attende con calma il mio silenzio e questi miei marinai che hanno udito il coro del più grande mare mi hanno anch'essi ascoltato pazientemente adesso non dovranno più aspettare sono pronto il fiume ha raggiunto il mare e ancora una volta la grande madre stringe il figlio al seno vi saluto gente di orfalese questo giorno è finito si sta chiudendo su noi come la ninfea sul suo domani ciò che qui ci è stato dato noi lo osserveremo e se non è sufficiente allora dovremo venire di nuovo per tendere insieme le mani verso chi dona non dimenticate che tornerò ancora un poco e il mio anelito raccoglierà polvere e schiuma per un altro corpo ancora un poco un attimo di quiete nel vento e un'altra donna mi partorirà addio a voi e alla giovinezza con voi trascorsa era solo ieri che in sogno ci incontrammo voi avete cantato per me nella mia solitudine e io con i vostri aneliti ho costruito una torre in cielo ma ora il nostro sonno è fuggito il nostro sogno è passato e non è più l'alba il meriggio è su di noi il nostro dormiveglia si è tramutato in un giorno più pieno e dobbiamo separarci se nel crepuscolo della memoria dovessimo nuovamente incontrarci parleremo ancora e mi canterete una canzone più profonda e se le nostre mani dovessero incontrarsi in un altro sogno costruiremo un'altra torre in cielo così dicendo fece un cenno ai marinai che subito levarono l'ancora e tolsero gli ormeggi e la nave si mosse verso l'oriente e un grido venne dal popolo come da un singolo cuore si levò nell'oscurità e venne trasportato sul mare come un grande suono di tromba solamente Almitra restò in silenzio a fissare la nave finché sa scomparve nella nebbia e quando tutta la folla si era ormai dispersa lei sola rimase sul molo ricordando in cuor suo le sue parole ancora un poco un attimo di quiete nel vento e un'altra donna mi portorirà